Cos'è connesso? Ah, ok, edizione mega straordinaria. La storia si posizionerà alcuni anni dopo la sconfitta di Mayimbu e, secondo le parole del produttore Fujitsu Osamu Nozaki, vedrà l'arrivo di un nemico ancora più potente di Mayimbu e Freezer. La Toei Animation produrrà Dragon Ball Super creato sulla storia ideata da Akira Toriyama, l'autore originale del brand. Dragon Ball Super è la prima serie di Dragon Ball in 18 anni. Tokyo 28 aprile 2015, la Toei Animation ha annunciato la produzione di Dragon Ball Super traduzione inglese del titolo giapponese, la prima serie televisiva inedita di Dragon Ball distribuita in 18 anni. Seguendo l'uscita del recente film Dragon Ball Z Resurrection of FF Dragon Ball Z Fukutsu No FF, Dragon Ball Z La Rinascita di FF, Dragon Ball Super debuterà in Giappone questo luglio 2015. Vedendo il ritorno dei personaggi icona del franchise, Dragon Ball Super seguirà l'indomani della feroce battaglia con Mayimbu, seguendo il tentativo di Goku di mantenere la fragile pace della Terra. Supervisionato dal creatore originale di Dragon Ball, Akira Toriyama, e prodotto da Fuji Television, Dragon Ball Super proseguirà il suo storico passato per creare un nuovo universo che accoglierà i fan di vecchia data e appassionerà i nuovi spettatori. Pubblicato come un manga su weekly shonen jump edito Shuei Sha-Ink. Nel 1984, Dragon Ball si è evoluto in un franchise mondiale. Acquistato da più di 70 paesi con oltre di 230 milioni di copie del manga vendute, Dragon Ball rimane una delle serie più famose al mondo. Avendo amato Dragon Ball sin da bambino, è entusiasmante far parte di questo progetto, ha detto Osamu Nozaki, produttore per Fuji Television. Il maestro Toriyama ha creato una storia che non è solo un sogno per i milioni di fan di Dragon Ball, ma creerà una nuova generazione di spettatori. Quando sono entrato nella Toei Animation, uno dei primi incarichi assegnatomi fu la produzione di Dragon Ball Z, ha affermato Atsu Shikido, produttore Toei Animation. Anche se fu solo per poco tempo, essere parte di quel progetto mi ha lasciato una durevole impressione. Siamo lieti di poter portare avanti l'eredità di Dragon Ball regalando al pubblico un nuovo DB con lo stesso cuore e impegno dedicati alla produzione della serie, in passato. Ho usato la parola Chio Super in così tanto spot, videogame e altri media dedicati, ed è fantastico che l'atteso Dragon Ball Super possa finalmente debuttare, ha detto Masako Nozawa, voce giapponese di Son Goku, Son Gohan e Son Goten. Spero che questa serie duri a lungo e avrà lo stesso impatto del suo predecessore.